Strade comunali ridotte a veri percorsi di guerra, cittadini ed automobilisti furiosi. In realtà nessuna novità. È un copione che si ripete puntualmente ad ogni evento alluvionale in considerazione del fatto che la maggior parte delle strade giarresi necessita di interventi radicali e non di semplici rattoppi, in un territorio tra l'altro dove il rischio di dissesto idrogeologico è molto alto. Le piogge battenti degli ultimi giorni hanno infatti letteralmente devastato il territorio. Basta fare un giro per la città per notare come sulle principali vie copiose voraggini mettono a repentaglio l'incolumità di guidatori e pedoni. Corso Europa, Via La Torre, Viale Federico II di Svevia, Corso Sicilia, Via Settembrini, Viale delle Provincie sono solo alcune delle arterie maggiormente flagellate dal maltempo e teatro di diversi incidenti. In Viale delle Provincie, a pochi metri dall'ufficio postale, una vera e propria voragine ha causato non solo disagio alla circolazione, ma anche un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, fortunatamente senza feriti. Decine e decine le autovetture invece che hanno riportato danni ad ammortizzatori e pneumatici. Approfittando della breve tregua dei giorni scorsi, gli operai comunali, in attesa di un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche per dare il via alle manutenzioni stradali, avevano provveduto temporaneamente a riempire le buche con della terra, un intervento vanificato dopo poche ore dalle successive piogge. E allora cosa fare? In alcuni casi il Comune ha provveduto a collocare la segnaletica verticale con limiti di velocità e di pericolo nel tentativo di mitigare i disagi agli automobilisti. In altri casi i cittadini giarresi non sono rimasti a guardare inerti, ma hanno provveduto a segnalare alla meno peggio diverse voraggini. C'è chi ha usato una pila di pneumatici, chi ha addirittura un divano, come si vede in questa foto. Immagini che in questi giorni hanno fatto il giro delle pagine dei social network, suscitando ilarità mista a rassegnazione e sentimenti di indignazione. Intanto dal Comune fanno sapere che da lunedì, tempo e personale permettendo, dovrebbero partire i tanto attesi lavori di manutenzione stradale.